Fa morta questa, perché la mamma ha preso un po', vabbè, un colostro un po' che è riuscita a prendere. Guarda, ho tutta forza, devi metterci, vuole pazienza. Il primo latte che scende? Il primo latte che scende? Sì, la vita, senza colostro non cambia, manca un osso. Gli umani si vedono, a volte succede che la mamma non ha il latte, quindi colostro. Ma è un cagnolino o una capra questa? Infatti è diventato un cagnolino, è quasi un cagnolino. È una pittina, una pittina. È un bambino, sì, una bambinetta capricciosa. Allora devi prendere... Ho un succhiato tutto. Madonna, hai chiuso la bocca, non la vede. Finito. Però una volta che puoi... Ho succhiato tutto, con te. C'è succhiato tanto. Quindi. Uncuatro...